Ciao creatura, io sono EGATESplendenti e benvenuta, bentornata nel regno di CosaE, ASMA. A grande richiesta dato che creatura ti ho chiesto nella community di Youtube se volevi vedere un haul con un pelo di sand fluttuante. Ogni tanto si vede passarne uno nei miei video, fa troppo ridere. Qualcuno potrebbe dire che sono quei cosi là, gli spiriti, non so. Vabbè, comunque torniamo a stare. Ho fatto un sondaggio per sapere se volevi uno haul che ho fatto, cioè gli acquisti fatti al mercato. Sono indumenti dai 50 centesimi ai 2 euro in quest'orange, quindi proprio spese folli, ecco. Ho preso un bel po' di, no scusami, 2 euro e 50, adesso che ci penso, dai 50 centesimi ai 2 euro e 50, perché c'è una cosa da 2 euro e 50, quindi ok. E mi correggo. Quindi il 98% mi pare ha votato sì, perché volete vederle, perché queste cose le mostro di solito su IG, perché vado a comprare cose, poi le mostro direttamente dal telefono, nelle storie. Però appunto non tutti hanno Instagram, non tutti hanno IG, 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 IG. E quindi creatura te la dimostro l'holla anche qua, su YouTube, in modo rilassante, rilassante, rilassante. Come sempre lasciami un like e un commentino random, oppure se riesci ad arrivare fino ai video, guarda tutte le cose e dimmi cosa ti è piaciuto di più. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale. Parto subito con questo lupetto che sto indossando. è verde, verde cacchi, dovrebbe essere verde oliva, verde bottiglia, non so, verde comunque, verde militare. Vabbè, dunque, è così a collo alto, che per me per l'inverno va molto bene, anche se siamo a marzo, solo che c'è sempre la nebbia qua, e di solito la nebbia si fermava a fine febbraio, invece si sta prolungando per tutto marzo. Vabbè, comunque io mi trovo molto bene, perché appunto c'è tanta umidità qui, quindi lupetto mi sento protetta con lupetto. Questo l'ho pagato 2€ e era nuovo, erano rimanenze di magazzino, secondo me queste cose avevano un po' le taglie così, perché questa è una XL e mi sta proprio giusta e un po' struttina anche, cioè attillata, non stretta. Perché io di solito tendo a prendere taglie più grandi, perché mi sento più comoda, più confi, no? Invece quelle della mia taglia mi sembrano troppo attillate, invece magari questa è giusta e sono le altre che prendevo, che erano più grandi, però comunque, toppi, toppi come dice Davide. Ok, andiamo a vedere insieme che cosa ho acquistato, vado in ordine sparso, a 50 centesimi, ho preso questa camicia estiva, è a maniche corte per me, è di un bel tessuto leggero, è grigia con ananas e palme, è una taglia S, però è da uomo, quindi dovrebbe starmi bene, ancora non l'ho provata, la devo ancora lavare, ma non c'è stato un giorno di sole, quindi siccome le lavo a mano, le cose acquistate al mercato, perché a volte sono nuove e sono magari piene di incostro e quindi poi rilasciano anche colore, e allora le preferisco, dopo l'ultima esperienza, che ho macchiato tutto, preferisco lavarle a mano. Sempre a 50 centesimi ho preso questa camicia, sempre estiva e maniche corte, però per mio padre, gliene stavo comprando una grigia, però grigia gliene avevo già comprata, maniche corte, sempre al mercato, e allora questa volta ho optato per una cosa meca colorata per cambiare un po', perché se no tutto grigio, anche la mia è grigio, però la mia è pensata per estate ufficio e quindi grigia ci sta. La marca è la russo, non so che marca sia, comunque questa è una XL da uomo, è bella, è giusta per mio papà e ha anche il taschino con il logo, credo, del brand, anche la mia aveva il taschino. Però mio padre danno fastidio i colletti e quindi taglieremo il colletto e lo faremo alla giapponese, che si dice, no? Coreana, alla coreana, no, alla giapponese, alla coreana. Effettivamente il colletto è un po' rigido, però a me piacciono i colletti delle camicie, a lui danno fastidio per ognuno le proprie pippe mentali. a un euro, per mio papà ha preso questo maglione giallo made in Italy, è nuovo, nuovissimo, c'è ancora il cartellino, dice Repubblica Italia since 1946. C'è anche Instagram e Facebook, tra l'altro. Sarei curiosa di andare a vedere quanto costano i maglioni, c'è, in negozio XXL. Sembra un bel tessuto morbido e allo stesso tempo leggero, perché mio papà non piacciono i maglioni, quelli tanto pesanti, a me invece piacciono quelli pesanti, cioè l'opposto. Io ho sviluppato un'enorme passione per i pantaloni che chiamo da biscotto, preso da una vecchissima puntata di Scrap, se l'avete mai vista la serie, che sono i pantaloni comodi, che poi abbiamo, io e mia mamma ha cognato anche il termine pantaloni da pasticcino, allora quelli da biscotto sono quelli elasticizzati, che tettini in casa, così comoda, confi, e invece quelli da pasticcino sono l'evoluzione, cioè sono quelli sempre elasticizzati, confi, però sono un po' più elegantini, quindi ci puoi uscire, ecco. E niente, questi, questi ha detto mia mamma, sono da pasta a frolla, non ho capito? Non mi ricordo se è pasta a frolla o un'altra roba, però aggiunsi sempre delle cose nuove, io mi sarei fermata a biscotto e pasticcino, però vabbè. Perché poi si creano dei sottogeneri che non mi ricordo, quindi fermiamoci a pantaloni da biscotto, questi sono da biscotto, e sono grigi, con quell'effetto tipo scolorito che andava di moda da un tempo fa. Gli ho pagati un euro, ero tentata nel tenermeli, però ne ho centomila, paio così, però li ho tutti neri praticamente, poi ne ho un paio solo beige, ne ho un paio anche di comano fatti così un po' diversi, che ogni tanto ci esco pure, perché sono tra il pasticcino e il biscotto, e li ho grigi, li ho verde militare, un bottiglio di oliva, quello che è, lì ho anche un colore strano, tipo tra il giallo e l'ocra, non lo so, senape forse, e color senape, e li uso solo quelli pesci, quelli senape in casa come pigiama, e poi altri li uso sia per stare in casa che per uscire, però mio papà me li invidia, ha detto li voglio anche io, prendermeli anche per me, il problema è la taglia, insomma, e io gli ho preso questi, però secondo me ci sono stretti, cioè gli si vede troppo il pacco, gli ho detto non uscire con questi, non so se si vede il pacco, perché sono grigi, o se sono troppo stretti, e io non volevo riprendere, quindi no, ti stanno male, lascia stare, te ne prenderò altri, però mi dispiace, perché lo vedevi che era contento, però ancora non se li ha messi, quindi capisco che forse, però vabbè, li ho pagati un euro, se proprio me li metterò io, hanno questo elastico un po' largo che sta cedendo, quindi per cui l'ho detto sicuramente potrebbero andargli bene, e anche non so se sono quelli grigi che fanno risattare un po' il pacco, cioè un po' troppo evidente, meglio se li tieni in casa come pigiama, tutti questi pantaloni qua li trovo nella stessa bancherella, che ogni tanto hanno le cose a un euro, a volte ha cose a due euro, e al sabato anche tre euro, ne approfittano, perché ci sono poche bancherelle, e invece il martedì è raro trovare un euro, quel martedì lì siamo stati graziati, ho trovato la roba a un euro, e lì hanno le cose nuove, però che hanno magari dei difetti, che a volte sono impercettibili, tipo un miniforo, oppure sono cose che stavano in vetrina, quindi magari hanno preso il sole, e magari hanno qualche difettuccio di colore, o a volte sono sporche, basta lavarle, perché sembrava una macchina, un difetto, bastava lavarle, ma tanto sono tutte cose che poi sono questi pantaloni da un euro, che tengo a casa, tipo pigiama, e quindi a me non me ne frega se hanno una macchiolina, cioè se sono di un colore diverso, proprio così, perché tanto non ci deve uscire, invece quelli con il difetto impercettibile ci esco anche, e a volte non so perché, non hanno difetti, forse non vanno più di moda, non lo so, comunque ne trovi alcuni senza difetti, e quindi vabbè, meglio. E l'ultima volta avevano le cose a un euro, e quindi ho preso anche quei pantaloni, infatti quelli lì grigi non hanno difetto, però hanno questo elastico molto morbido, e secondo me le persone, magari le donne o gli uomini, che hanno quella taglia lì non gli va bene, e quindi sono giusti per una persona, capito? Ecco. E proprio per stare in casa ci sta anche avere l'elastico un po' mollo, perché comunque i pantaloni, anche se sono per stare in casa, comunque costano, non è che dicono no, ma questi qua stanno in saldo, perché tanto li metti in casa, no? Quindi non so se hai capito il mio ragionamento, poi ho acquistato, che non vedrai perché è nero su nero, ho un paio di pantaloni neri, un euro sempre nella stessa bancherella, e il difetto secondo me di questi è che, a parte che sono un modello vecchio, e poi sono un 46, che però non sono proprio 46, sono tra il 46 e il 44, perché io ho il 44 e mi sono appena appena larghi, quindi secondo me hanno sbagliato un po' la taglia. Sono dei tipo jeans, però ho un tessuto morbido, e con il bottone e la cerniera, quindi non sono da biscotto, però appunto sono questa taglia 46 un po' ambigua, che ho detto vabbè io ho la 44, me li metto con una cintura magari, ma riesco, ma mi stanno abbastanza su anche senza, quindi per quello ho detto. Un euro, sono fantastici, e poi sembra un euro, ma in un'altra bancherella, avevano questi pantaloni troppo trash, e non potevo lasciarli lì, sono tipo da biscotto, biscotto per un biscotto trash, non so neanche come definirli, sono sempre sullo stile confi, con l'elastico e la culisse, però come te li spiego? come te li spiego questi, sono zebrati, grigi e neri, con i glitter già in doppia, sono anche di un tessuto morbido, però allo stesso tempo bello resistente, pesantucci anche, quindi con questi si potrebbe anche uscire, però devo capire un po' come abbinarli, perché sono molto trash, decisamente molto trash con i glitter, poi spero che lavandoli vadano via i glitter, non so se si mettono i glitter in videocamera, secondo me no, però c'è doppi, anche se li uso solo per stare in casa, un euro sono troppo trash, cioè io dovevo averli, c'erano anche sempre zebrati, però più chiari, e c'erano anche militari, con proprio tutti i animali, no animali, questi sono animali, gli altri, come si dice, militari con tutte le macchie, lo sapevo il nome, non me lo ricordo, però quelli militari, avevano dei difetti, cioè era la stoffa, era tipo una gamba, era di un colore, l'altra gamba di un altro, cioè troppo trash per me, questi qua almeno erano uniformi, nel loro traciosità, ecco, uniformi nel loro traciosità, penso che sia il termine giusto, per utilizzare, e l'ultima cosa, la cosa che ho pagato di più, allora c'era questa offerta, c'erano queste borse, che poi, una di queste che abbiamo preso, costava 15 euro, c'era l'offerta, una borsa 3 euro, due borse 5 euro, quindi ho preso anche una borsa per mia mamma, così questa borsa mia, l'ho pagata 2 euro e 50, la sua 2 euro e 50, e la sua costava 15 euro, c'era proprio il tag, 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 e la mia non c'era, però poi le ho riviste, la mia l'ho vista su internet, simile, e non ti dico, non ti dico, a parecchio, adesso io non so se è una, imitazione di quelle lì, o se fa parte delle strade, tessero, c'è quella che veniva a 15 euro, che non ce l'ho qui, quella di mia mamma, non te la posso mostrare, comunque una borsa tipo, arancione, di finta pelle, ma molto morbida, così, sembra tipo un beauty, a me ricordo un beauty, so che ti ho appena mostrato, la scorsa settimana, la borsa che mi sono comprata, quella borsa là, è per tutti i giorni, questa invece è per, le occasioni speciali, per le uscite serali, magari così, però sono un po' più elegantina, però sempre un po' rock, come si può dire, non so, e, la borsa in questione è questa, ha ancora il tag, anche questa qua, perché è proprio nuova, allora, la marca è, Mela, Melas, Melas, mai sentito, Met in Cina, vabbè, però ha tutto, cioè, c'è scritto, sì, ci congratuliamo con voi, per aver scelto, un modello, della nostra collezione, Melas, l'alto pregio, di materiali, impiegati, di unito all'accuratezza, della lavorazione, testimoniano, l'alto livello qualitativo, di tutti i nostri articoli, cioè, addirittura, tu hai ragione, comunque, si è fatta veramente bene, mi piace, perché ha questa fibia, un po' vinta, cioè, non so se la vedi, creatura, che, bisogna far così, e si apre, no, bisogna, stringere, quelle dita, vabbè, all'interno, molto piccina, non ci sta neanche, i miei portafogli, quindi, dovrò prendermi, un portafogli piccolo, è di, è di finta pelle, ma ha quell'odore, tipo, delle scarpe, oddio, non è che di pelle vera, non credo, no, dai, sa da scarpe, tipo, da quelle scarpe, quegli stivali, tipo, di finta pelle, però mi sembra molto resistente, già fatta davvero bene, per quanto l'ho pagata, ha anche la taschina interna, con la cerniera, quindi top, e, mi piace un sacco la fibia, perché è particolare, non ne avevo mai viste fatte così, c'era anche una versione con, una specie di fibbia, appuntita, ma non c'era nera, se fosse stata nera così l'avrei presa, perché mi piacevano entrambe, ma di più con la, quella fibbia era più, gotica, tipo, e poi mi piace che la, la tracolla, è una cattina, che si può anche regolare, quindi si può mettere un po' più stretta, quindi, che ti stia un po' più alta, a me piace la tracolla lunga, come sai già, l'ho già regolata, così, mi piace l'odore, che ha una tasca dietro, con la cerniera, che sappiamo già, non verrà utilizzata, bene, e, quindi, questi sono stati gli acquisti, che ho fatto, fammi sapere nei commenti, quale ti è piaciuto di più, e quale avresti acquistato, anche tu, creatura, non sono riuscita a farti, altri vlog, al mercato, perché appunto, con questa videocamera, sono troppo esposta, col telefono, fa dei video, brutti, brutti, ok, non ho detto del ca, ho detto brutti, ok, e, e, e poi, onestamente, una volta, avevo tipo, bisogno di, imbrogliare la mente, dicendo, vado qua, perché devo fare il video, adesso invece, vado lì, e voglio godermi il momento, senza avere il pensiero, di dover fare il video, e quindi, è diventato, non un problema fare il video, ma comunque, mi distrae troppo, io devo essere concentrata, per acchiappare, più prodotti possibili, a pochi euro, e, non ho fatto vedere le scarpe, aspetta, manca il pezzo forte, eh, ma quello, quelle lì, vanno fuori budget, ho comprato un paio di scarpe, mio papà, 10 euro, scarpe nuove, ovviamente, hanno ancora, qua, della NASA, 10 euro, cioè, le ho viste in negozio, sono sui 40, e, generato di vari modelli, ma queste qua, sono le più belle, secondo me, e, sono, grice e blu, con la scritta NASA, le altre erano nere, avevano proprio il logo, il logo tondo della NASA, che non è tanto bello, si è un po' trash, secondo me, e c'è queste foschette così, sono un po' più carine, un po' più fini, secondo il mio punto di vista, ecco, io le ho prese 41, che hanno stesso numero, però io queste, non riesco a portarle, fatte così, non riesco a portarle, perché io ho le caviglie, troppo sottili, e le perdo camminando, quindi devo avere tutte scarpe, che coprano, che tengano stretta, diciamo, la caviglia, quindi, guarda ancora, con la forma, c'è tutto, nuovissime, e c'erano anche delle superga, volevo prendere le superga, mio papà, così se le metteva, quest'estate, sono quelle, di stoffa, leggere, però c'erano tutti i colori, uscini, tipo rosa, e l'unico paio, che era bello, blu, era un, un 48, sì, un po' troppo, troppo grandi, e quindi, niente, ogni tanto, si ha la fortuna, di trovare, anche le scarpe, a 10 euro, anche a 8 euro, a volte, e, infatti, ho trovato delle superga, a 8 euro, con il pelo dentro, nere, però erano un 42, mi sono mangiata le mani, forse potevo prenderle, anche se erano un 42, però, con il pelo, magari faceva spessore, poteva essere un 41, però, avendo un mal di schiena, non mi sono sentita di provarle, pessima decisione, vabbè, ancora, mi dispiace, non averle comprate, però, vabbè, fa niente, è andata così, comunque, spero che questo video, effettivamente, ti ho mostrato anche un piccolo extra, 10 euro, spero che questo video ti sia piaciuto, come sempre, ti auguro, buonanotte, buon relax, ciao, ciao, creatore, ciao, c'è piaciuto, c'è piaciuto,